Guarda, faccio vedere che parli e ti escono le cose Non è questo? È vero? Com'è? Io parlo e ti escono le cose Sparra io, non tu Menù Sì Tu cazzo Non le caglioni Senti che cazzo Ciiiiii Ma solo tu potevi ritrovare queste cose Stai puzzando, torta Una cazzo mi è umidata Ma non mi ha detto che ora mi servevi a fare la seconda scuola per loro Ti ha proprio la stessa cosa C'è un proposito, cosa stai cazzo tramite? Allora, io non penso che ci ci sono normalmente Tu ti chiamare è perché non non rispondisci Ma non cazzo sta dire Non lo so Ma io allora io giuro Ok, non lo so Non lo so No ma il mio Adesso C'è una scuola Di quello che mi interessa Oh, a scuola Mi hai fatto un po' chiota un po' di rispondi un po' di rispondisi un po' di rispondisi un po' di rispondisi una grazù che viveva a tevi vengono taga a tropp? no ma alla fin la tua giovanza che hai che sei spero è sicuro a me mia tempo ad aga a troppone ma mia tempo è costante anche il momento che ti risponderei vai no hai un po' di rispondisi No, non mi vanno? No, non mi vanno a parlare, non mi vanno a parlare Non mi vanno a parlare, non mi vanno a parlare Quando parlare io ti chiamo Tu mi chiamiamo tu E io ti chiamava così, io mi chiamava Io ti chiamavo, io ti chiamavo Ma io non ho visto Se vede che non ho visto, che tu ti dà Io non ho tenuto più carri Io non ho visto Anche a Torino Un perdito a Torino Anche a Torino Non è possibile E' un mondo Si, un mondo Se Luca, uno non è io carica batteria Del nuovo 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 Andrei finito Non mi mandare Non mi mandare Staremmo bello Non ti scrivo in mezzo A un produttore E un produttore Hai giunto tu produttore E io a Zizce Himmi In questa Io non lo faccio E ti Grazie a tutti.